Ancora fiamme sulle colline del Cilento, distrutti alcuni ettari di vegetazione a causa di un vasto incendio divampato nella giornata di ieri pomeriggio tra i comuni di Agropoli e Doiastro Cilento. Il ruogo si è diffuso rapidamente bruciando alcuni ettari di terreno. Tempestivo l'intervento dei caschi rossi e della squadra della protezione civile gruppo comunale agropolese che hanno domato le fiamme con non poche difficoltà. Infatti è stato necessario l'intervento di un elicottero che ha sorvolato sul posto per spegnere le fiamme. Non sono stati registrati danni a persone né alle abitazioni presenti nelle vicinanze. Fortunatamente per questa estate 2019 il bilancio dei roghi sembra essere sotto controllo nonostante le alte temperature registrate in questa stagione estiva rovente.